Adesso ci dedicherò in totale cinque ore a settimana. Faccio nella mente di un'ora e mezza circa. Comunque. Uh, è uscito il video di Kappekazu. C'è una sorpresa lì. Allora. Allora, dopo mostriamo. Alistar full AP. Andiamo di Relic. Ho deciso di andare support perché... Ok. Ho deciso di andare support perché così non ho il peso di dover farmare con Alistar, che farmare con Alistar è veramente una tortura. Cioè, è veramente una tortura a farmare con Alistar. Soprattutto quando si è... Soprattutto quando si è contro un champion tipo Xerth. Quindi ho fatto benissimo. Cioè, avrei soltanto sofferto in mid. Vado support così posso abusare questi due pussy player e via. Comunque... Ma perché sta cosa del calo di rete ti senti grasso? No. Anzi, io le sto alzando perché devo aumentare i muscoli. È così che funziona il corpo umano. Non spendi personal tenere mese? Niente. Perché... È il personal tenere della palestra che però è molto disponibile. Quindi mi sta dietro. Altro mese. Altro sub per lei, signor Fieri. Grazie, Creeperid. 16 mesi. Bentornato, carissimo. Grazie mille. Allora, queste sono le rune. Andiamo ovviamente di Predator. Manco a dirlo. Manco a dirlo. Glocchiamo la cucca. Dovremmo fare un pull e ovviamente far attancare me. Bene. Arrangiati. Ho preso uno schiaffo e il massimo mi posso prendere. Mi dispiace. Mi ho rnezzuco. Eh, Raziel l'ho trovato... Ho la fortuna di aver trovato un ragazzo molto disponibile. Si vede chi lo fa per passione. Oddio. Mi han preso. Chi si è? Ridi, ridi. Poi aspetta che faccio... Prendo la W e vedite. Faccio saltare in aria. Boom! Adesso spara qualcosa e non c'è spugno. Ah, io fra finché non faccio il 2... Sto dietro, eh. Meglio che pusci qua, altrimenti... Va bene, caro Nopa. Mo' arriveranno i Minun. Sto qui dietro, ah. Non c'è paura. Vabbè, niente. Attendiamo! No, 47.000 Minion che si avvicinano. E adesso? Eh! Prendi il cazzo, Troia! Sparisci! Quindi il cazzo pure te, sparisce. Ok. Da andare meglio, potrà anche andare peggio. Stampeed. Comunque si vede che ci stiamo alzando di elo. Cioè, già la gente che... Eh... Che... Che... Come si dice? Che ci allontana dal farm a livello 2, mette pressione, non faccio prendere expo. Cioè, qua? Altro che gli Iron. Cioè, siamo in bronzo 3, ragazzi. Ci stanno i pro player, qua. Avete visto? Ci vediamo a un prossimo video. Però ha seguito l'ingage. Quindi, c'è più o meno, nel senso. Gli ho tirato... Buonasera. Caitlin sottotorre. Quindi... Però... Ok. Dopo aver visto questo... Autoattacco potente, qua. Questo right click sui Minion. Ci vediamo a un prossimo video. Roar, Tigrotti. Grazie. Spari! Ok, Bobby. Let's go! Mi sento carichissimo. Minchia, mid è già 0-2. Ottimo. Andiamo back. Uff. Allora. Quasi quasi insta-ionians non sarebbe... No. Ma sì, dai. Allora, lo faccio perché, come ho già detto, Alistar è abbastanza summoners dipendente. Quindi... Già abbiamo questo. Più le scarpe, il flash l'abbiamo ogni... Posso vedere il flash? Faccio vedere il flash e non l'ex flash? Boh, non lo sapremo mai comunque. Fate i vostri calcoli e basta. Grazie, dudissimo! Per gli otto mesi, Orange, grazie dei tre mesi. Grazie mille, ragazzi. Non ce la possiamo mica fare. Ma do cazzo è morto? E ti piace più il dolce o il salato? Un po' il dolce, perché il dolce è troppo dolce. Sono passata per salutarla, signor Fieric. Il microfono non c'è perché è andata a tuttane. Fieric, puoi salutare mia mamma Graziella. Ti guarda mentre pranziamo minore 3. Ma? Sa che sarà un po' difficile senza... Senza mid laner. Come l'impressione è che ci sia qualcuno qui dietro, no? Eh sì. Rip Drago. Stiamo giocando senza mid laner. Va bene. Gliel'ho un po' rubata, eh. Però ci sta. Cioè lei prende i minio e noi prendo le kill, no? Non è così che funziona? Come Notron non penso sia... Eh sì, invece. Oh! Guardatelo! Non posso prenderlo. Nulla che posso fare. Eh! Come scusa? Sì. Scusa, ma mi stai dicendo qualcosa? Spara, Tristana! Più, più! Porca troia! Vabbè. Sorry my bad. Va bene, va bene lo stesso. Piacciano le persone aggressive. Almeno ci si prova, ci si prova. Master Zombie, grazie di cinque mesi. Frenchy, grazie di tre mesi. Bentornati, ragazzi. Salve anche a Graziella, la mamma Graziella. Zero qua. Forse sarebbe meglio che ci andò io o mid lane a sto punto? Inizio a pensare questo. Sarebbe stato comunque meglio. Vabbè. Tanto non ha l'attenzione. Tic, tic. Si parte! Oh! Non ce l'arrivo. Vabbè. Scopati! Mamma che support! Oh, comunque sono 3-0-4 in tutto ciò. 3-0-4. Cioè... Mica cazzi, eh! Mica cazzi qua. 23 mesi dal mio streamer preferito. Buonasera Bertra Fieric Cringe. Fieric Cringe, guarda. Imo t'azzeccata con quello che hai detto. Grazie caffa per i 23 mesi. Bentornato. Andiamo a farcene un'altra? Siamo pazzi in culo qua. Vai, vai, facciamocene un'altra. Ok. Oh, qua mi prendono immediatamente. Oddio Lux. No, Lux! Ninja Sensei Cheer di X100. Buonasera a Fieric riposato bene in sti giorni di assenza. Easy! Ora do back. Grazie Ninja Sensei per i beats! Sto bene, grazie mille. Non vedi quanto son carico? Non vedi che scopaggio industriale che sto facendo con Alistar qua? Eh? Eh che cazzo. Ma poca toia. Ah, la cosa bella del fatto che c'ho... i Lucidity, quindi ho già tanto Ability Haste. Oddio. Nartron... Oh, attenzione, invece. Si salva con il Flash. È che tra Night Harvester e questo posso farmi già... Ah no, è vero che la dice benessere da Call of Duty Reduction pure quella, quindi... ...la Nintendo Switch con lo Scaffo. Vabbè tesoro, è meglio che non mi fai incazzare. Vabbè, finita per te. È finita per te. Oddio, top. Dove vai? Ultà! Ah, non ce l'ha. Oddio. Dodge. GG. Oh, ma quest'Herald? Che cazzo ha messo... Bocelli? Vabbè. C'è una nuova notificazione. Grand herald comunque. Ciao Rick. Stuprali per bene questi cessi. Insomma. Oddio. Sluggiamo. Madonna, che schifo. Questa Lux. Grazie Gianni! Grazie mille per i cinque mesi Gianni in chat. Grazie a Torres per i Beats. Grazie Patagiglio per il Prime. Benvenuto. Sono un po' dietro i livelli, però... Oh, Tristana, raga, l'ho dopata praticamente. Cioè... Su via. Oh, penso stesse jumpando nello Stundixerat questa. Sì, ma si può? Ma fanno tutti schifo al cazzo. Ma questo poi che... Vabbè. Sono un po'... Indietro di livelli. Io ne prendo una molto lentieri, grazie. Prendo anche la seconda. Quella no. Quella non mi piace. Creep jungler. Ma... Ho retto. Ho retto, eh. Loro hanno guardato. Cosa sta succedendo qui? Vabbè, non importa. Alla prossima. Tranquilli, non ci abbiamo fretta, ragazzi. Prendete il drago. Fate come fosse a casa vostra. Grazie, Slashy Render 3 Prime. Benvenuto o benvenuta, grazie mille. Quattro livelli sopra di me. Che gli dico? Probiamo un po' di expo qua, che sennò... Quella... Ma è un bot? Cazzo... Ok. Se non è un bot lo interpreta è molto bene. Mamma mia! Eh, vabbè, ragazzi. Questo support l'ha leggermente dopata. Ah, quella sta facendo... Vabbè, ci sta. Sì, sì. E fatelo, e fatelo. Quando viene a scoparti, non prendertela con me. Questi due buchi, dove sempre si infilano le tasse dentro. Ho guadagnato un gustoso 3 in scienze e ora si torna su Apex. Onesto, ottima... Ottimo piano per la vita. Grazie mille... No, ha fiorito. Grazie, carissimo. Ma anche se fosse... Puoi essere trombata anche tu? Mi ha rotto il cazzo. Sparisci. Easy. E si scappa. E si scappa. Arrivederci. Raga, la carriamo sta partita? Ce la facciamo, secondo voi? È un metodo di non essere così tanto fiducioso. Però ci si prova. Ci si prova, cazzo. Abbonatevi se ci credete. Eh? O no? Andiamo, cazzo. Ah, sì? Vuoi riprendere il cazzo? Eccolo! Basta chiedere. Mamma mia. Mamma mia cosa ho visto. Facciamo stare è meglio. Sto essere distrambi ce la vedo qui, ragazzo? Lui nocturn! Lo vedo qui, il ragazzo. Ehmh? Grande, sei riuscito a mi sarà solo, complimenti. Lui è riuscito a missarlo? Vabbè, un po' troppa gente Mi dicono dalla regia Ma? Comunque 900 gold Si è fatto nocturne Unlucky 08 Questa si fa l'herald Quella si farma la giungla E mo? Eh Vediamo che accade La farà la nostra eroina kindred Non lo so, eh Non credo Sono lento come la merda Serve il Frank di Alistar? Arrivo Purtroppo non ha avuto successo Il mio Predator Oh, attenzione Che ignoranza sto Champion Lux vera pioggia di cromosomi Mia, vorrei lanciarmi al dive Ma ho paura che sia una brutta idea Araldo per gli avversari Mangia le angurie Che ti fanno bene Quindi ci prendono la mid nel frattempo Vabbè Non ci prendono la mia Ah, sì? Sto dentro, ma si Ah, il Frank Willa Fieri Un giorno in cui non piove molto Compiamo insieme Fieri Ah No, ne mi succhiano Vabbè Portato comunque alla vittoria il mio team Raga, mi hanno succhiato Come la mettiamo Grazie Bargo Grazie mille, carissimo Prendiamoci una contro Che è meglio Bentornato Ragazzi, quattro mesi Grazie a Andre Gamer per il Prime Benvenuto, Andre Dai, cazzo Vai, Lux Vai Mamma mia La seconda kill Addirittura Incredibile Ho un po' più di movement speed Dai, leggermente meglio Dopo questa Ci facciamo Allora, la zona è tanta roba Però mi sa che hanno le cose di dare Perché non ho Sono troppo meno Ho bisogno di muovere più veloce Grazie, caffa Non mi aspettavo di Di peggio da te Eh Ok Ci abbiamo provato, bro Ci abbiamo provato Va benissimo L'idea che ci siamo fatti rispettare Beh, questa scade subito Comunque, guardate quante ward metto Ma se di che non siamo più in iron Cioè, bronzo 3, ragazzi Non si scherza Ma che ti ulta, eh Io Sarei un po' attenta Come fa ad averci la taglia? Per aver fatto due kill Ah sì Vediamo Vediamo Ok Ok Salvata In corner A posto Io un ar Lasciarei stare La torre a tirano giù Dopo Non abbiamo fretta Oh Dio E' morto otto volte Eravate Avevate così tanta voglia di killarla ancora Dai, poverina Ma fatemi fare Sta ward Dio Madonna C'è una nuova notifica Buonasera Rick Siamo a 15 Io sloggio da qui No, no E vi salustio tutti Voce all'herald No, no, no È un suicidio Ci ho pensato Poi ho detto no Non c'ho manco la unica Però Oddio Apparisce Oh, questo Oh, aiuto 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 Nice Oh Andiamo qua dentro Luca Grazie Luca Grazie Subgiftati Sai già cosa ti spetta Direi Visto che Sub Eh Grazie mille Luca Come va Tu apprezzi questo Alistar 8-2-12 Sono quello con più kill Insieme a Tristana Ma Tristana Tristana è un cesso Però l'ho fiddata Quindi Red click Ha una meraviglia Questo è full magic resist Cioè io Boh Non capisco Contro Urgot Scarf magic resist Tutto magic resist Mi ho fatto un po' di armor Che cazzo Che cazzo Che bu Io e te Non andiamo d'accordo Stai qui Non rompi il cazzo Proprio nessuno Che cazzo hai detto? Scusa Ripeti se il coraggio No Non so cosa sia successo Qualcosa mi deve aver confuso Ok Sono vivo Calma Bene Tutto grazie a me Ovviamente Gare in full Luca Mi dispiace per 10 Oddio Oddio Mi dispiace Luca Per 10 sub Non posso Concerti gare In full AP È troppo Il menu Ha alzato i prezzi Per i pick Quelli impossibili Da giocare Coglione Via 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 Che m'ha visto Via Una nintendo switch Con Come venderlo Champagne Al prezzo Del prosecchino Che trovi alla cop C'è capito Quello l'ho fatto Detali Stai Più In speed Più cool Da redaction Cazzo Riptor Mide Vabbè A nezzuco Non frega un cazzo Sta troia Zach full AP Accettabile 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 Briambino 05 Cirdix 100 Arrivo Egia Non ci sono Gli allerti Briambino Non è vero Sono qui Briambino In difesa In difesa di Luca Vorrei dire Che a me Hai concesso Yumi E Soraka Top per 5 Sud ciascuno Ecco E sappi Caffa Che è Mamma mia Attimo che devo scopare questi Poi parliamo Ok No 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 Aiuto aiuto Oddio Scusa intendevo i suoni Tipo la signora Anna Ma come penso Alle delle attivate Bambino Gli spiagli Forse sono disattivati Dall'altra volta Comunque dicevo Caffa Lo so che ti ho concesso Yumi Top per 5 sub Quindi sappi Che è per colpa tua Che non concedo più Ste merdati Oddio Mi pazza Vabbè Ok Tristana Cos'è Non posso Briambino 05 Cheerdix 100 Mi sa che ti sono rimasti In mente i miei suoni Dell'altra volta Ma contro mi serve Ma in realtà Si Però Sti cazzi Vediamoci questo Bulldog redaction Eh bambino Che ti devo dire Eh vabbè Bambino Scappa bro Arrivo Ma Non credo di poter far Animo C'è La Dura Oh Eh sì Ciao Salvi l'hanno prossimo Giornofieri Mauri è ancora vivo Via 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 Madonna santa Ha detto Ma dai Una toccata e fuga Sì Ciao Questi Sono permalosi Ragazzi Manco ciccio gamer Ai tempi d'ora Cioè Bello comunque Molto bello Ce l'ho detto Dai Flash o in WQ Ulto E vado via Se ciao Ux combatti Combatti Madonna santa Se ti va puoi riattivarli Oggi non sono in vena Di fare casino Visto che mi è morto Il papa Oggi e la nonna Settimana scorsa Scusa bambino Non vorrei dire Ragazzi dei beats Però Si stava incazzando Con una maiala Bambino Che è successo? Anyways Lasciamo i vocali Così come sono Non ho visto il flash Purtroppo Non ho visto il flash Mettiamo una guarda Il Nashor Che Vabbè che è morto Nocturne Però Oddio Me cazzo Ecco Così Siamo sicuri Sono perso Il flash Deluxe Sono bronzo 3 Luca Infatti si vede Che si hanno già Contro Gente Schillata Pure le ward Questi mettono Oddio Ok Ok Treno Alist Arrivato in stazione Ecco qua Bambino Scusate la gara citata Questo sarà il mio ultimo messaggio Per oggi Comunque è successo Per un incidente Spero di averti tirato Sul morale Con questi beats Bella Rick Buona serata Bambino Adesso Con tutto rispetto In quale modo Dicendomi che Molti membri Della tua famiglia Mi hai tirato sul morale Io spero averlo tirato Su a te morale Cioè Con questi game Mi dispiace tanto Mi dispiace tanto Comunque Grazie Dario Per i treci mesi Ma chi è tornato Bentornato Dario Bentornato Non so che dirti Bambino Mi dispiace davvero Ragazzi Sta partita A chi diamo L'honor Cioè Eh Tristana Un po' tanto A cazzo duro Però alla fine Non mi è dispiaciuta Privenito Cirdix100 A fine game Tocca reportare Urgot Per il cheat Della W È vero Benito Assolutamente No dai Devo dire Ma A parte Lux Hanno fatto tutte Le robe Abbastanza decenni Mamma mia Ragazzi Riconosciuto Riconosciuto Quel miglior player Del team Da tutto il team Incredibile George Anche a te È morta tua nonna Mi dispiace GG Alistar Riconosciuto 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 Riconosciuto